Uno dei principali protagonisti dell'inchiesta Mafia Capitale è stato trasferito nel carcere di Oristano in regime di alta sicurezza 1, il più restrittivo riservato ai detenuti, nei cui confronti si è avvenuto o meno il decreto di applicazione del 41bis. Si sta parlando di Massimo Carminati, il principale capo ed organizzatore di un'associazione criminale operante a Roma e nel Lazio e attivamente impegnato in numerose attività delituose, quali estorsione, riciclaggio e più in generale iniziative volte a ottenere la gestione e il controllo di attività economiche, concessioni, autorizzazioni, appalti e servizi pubblici. Una decisione presa dall'amministrazione penitenziaria, che ha discrezionalità nella gestione delle sezioni di alta sicurezza. Lunedì 24 luglio, il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, aveva disposto la revoca del carcere duro dopo che i giudici della decima sezione penale avevano fatto cadere l'accusa di associazione mafiosa per gli imputati del processo Mafia Capitale, tra cui Carminati, condannato a 20 anni di reclusione. In considerazione dell'elevata pericolosità del soggetto, il DAP, Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, ha chiesto nel trasferimento di Massimo Carminati l'adozione di rigorosissime misure di sicurezza e vigilanza atte a prevenire e impedire eventuali tentativi di evasione che il detenuto potrebbe porre in essere anche mediante l'intervento di complicità esterne. Dottor Antonio Sulis, oggi in conferenza stampa ha comunicato un qualcosa di molto importante. Beh sì, ho comunicato che dal primo di agosto lascerò la direzione sanitaria della Casa di Cura dopo quasi 30 anni di attività. È una scelta che ho ponderato, che avevo già in mente di fare già da quasi un anno, parlandone con l'amministrazione, perché ci sono altri impegni che non mi permettono di seguire con sufficienza garanzia l'attività qui in Casa di Cura, che ha necessità proprio di un impegno costante, giornaliero, tutti i giorni della settimana, come di sabato e la domenica. Lo faccio, come se lo dire, un po' a malincuore, con tanti ricordi, però nello stesso tempo mi ritengo anche soddisfatto personalmente del lavoro effettuato e di lasciare anche l'eredità a un ragazzo giovane, molto bravo, che sto conoscendo e col quale starò con lui per un po' di tempo per fargli conoscere la struttura sia negli aspetti strutturali ma anche negli aspetti legati all'attività con i dipendenti. Un occhio di riguardo alla clinica Madonna del Rimedio. La clinica ha molto da offrire, offre tantissimi ai cittadini di Oristano. È un punto di riferimento, non la chiamerei più, la chiamerei ospedale privato. È un punto di riferimento per i cittadini, è un punto di riferimento dove si esplettano tutta una serie di attività che il pubblico per tutta una serie di motivi non può soddisfare che in questo modo abbattono anche le liste d'attesa e nello stesso tempo non permettono al cittadino di Oristano di potersi leccare in altre parti della Sardegna per poter avere la loro visita o attività strumentale per soddisfare le esigenze di salute dello stesso. Nicola Mura, nuovo direttore della clinica Madonna del Rimedio. Sì, questo è un nuovo incarico, è un incarico comunque importante, una responsabilità importante, raccolgo un'eredità importante che è quella del dottor Suris che ha lavorato per oltre 30 anni in questa casa di cura, una persona di elevato livello sia personale che professionale, quindi raccolgo un'eredità importante. La casa di cura adesso è impegnata in un percorso di riorganizzazione sia strutturale, tecnologica, quindi relativa alle apparecchiature e poi di dotazione organica, quindi relativa al personale, per rispondere ai requisiti dell'accreditamento definitivo della Regione Sardegna. Quindi il percorso, soprattutto nei prossimi mesi, sarà improntato appunto nella implementazione di questo progetto, di questo percorso, che porterà quindi la casa di cura alla possibilità di erogare prestazioni sanitarie sia in regime di ricovero che in regime diurno e ambulatoriale in condizioni di qualità e di sicurezza verso i pazienti e chiaramente anche verso gli operatori. Il progetto chiaramente però mette sempre al centro il paziente e quelle che sono le sue necessità. Siamo anche impegnati appunto in una fase di valutazione dei fabbisogni appunto del territorio, quindi della domanda di salute del territorio, per poi eventualmente portare le nostre valutazioni e quindi il nostro progetto alla SSL e alla TS è all'assessorato per una valutazione da fare insieme su queste esigenze, quindi per riorientare anche i nostri servizi verso alcune discipline e alcune attività che oggi denotano una forte mobilità passiva quindi di pazienti che dal territorio oristanese e comunque dalla SSL 5 di Oristano si spostano in regione verso altri territori per soddisfare questo loro bisogno di cure. Il nostro interesse è fare in modo invece che questi cittadini possano trovare accoglimento alle loro necessità sul territorio, quindi limitando i loro disagi e i loro spostamenti. Il recente commento in negativo sulle prospettive dell'economia italiana ed europea deve subire un aggiustamento a seguito delle stime fornite dal Fondo Monetario Internazionale che da una visualizzazione tutta sua prevede per il 2017 una crescita del prodotto interno lordo italiano dell'1,3% e dell'1% per il 2018, un andamento in positivo che riguarda il sistema Europa, meno l'Inghilterra e oltreoceano gli Stati Uniti. Aveva quindi ragione il presidente della Banca Europea Mario Draghi quando intervenendo di recente ad una conferenza in Portogallo aveva dichiarato che si è di fronte ad una ripresa più robusta. Resta un neo quando nel sistema paese gli effetti di questa ripresa avranno pratica e diffusa rispondenza premiando non solo il sistema bancario e l'interscambio dei grandi capitali. Tutto pronto a Santa Giusta per la 38esima edizione della Regata dei Sfassoisi Nata nel 1976 per volere del direttivo della Proloco, presidente Irene Olleda e segretario Giorgio Guerra e in collaborazione con l'EPT, la manifestazione unica nel suo genere ha avuto il pregio di mantenere vivo l'interesse nei confronti della piccola imbarcazione costruita interamente con erba palustre detta VEU che diversamente si sarebbe dimenticata negli anni. I primi fassoisi venivano costruiti dal nurachese Anastasio Caddeo La sua presenza nei nostri specchi d'acqua ed in particolare nella laguna di Santa Giusta testimonia insieme a tantissimi reperti archeologici in modo diretto il passaggio dei Fenici in Sardegna avvenuta nell'VIII-VII secolo prima di Cristo La comunità di Santa Giusta attraverso l'impegno delle amministrazioni che si sono succedute negli anni e della Proloco conserva gelosamente questa tradizione che rappresenta anche l'identità del piccolo centro alle porte di Oristano e che ha legato per anni la sua economia al mondo della pesca Oggi esiste anche una scuola che indirizza i giovani santaggiustesi alla costruzione e alla conduzione dei suvassoni Marco Pili è il maestro che ogni anno trasmette ad oltre 20 tra bambini e bambine l'arte della costruzione e della conduzione E così domenica mattina l'incantevole laguna che fu dei Fenici ospiterà la manifestazione con una decina di fassonerisi che si daranno battaglia nelle diverse specialità di fassoni a remi e a cantoni Nutrito il programma messo a punto da Comune e Proloco si è iniziato mercoledì con le visite in barca all'interno del compendio ittico Sabato dalle 20.30 è prevista la degustazione dei prodotti della laguna ed in particolare sabasta gunkavuru, cioè pasta al sugo di granchio Alle 22 il concerto di Maria Giovanna Cherchi Domenica 30 luglio tutta la giornata sarà dedicata a questo importante evento Già dalle 9 inizierà l'esposizione e promozione dei prodotti dell'enogastronomia e artigianato locale a cura di Coldiretti Alle 10 partirà la sfilata dei regatanti accompagnati dai costumi tradizionali di Santa Giusta e dai gruppi folk di Arbus e Proloco di Gono Svanadiga con l'organetto di Marco Chergia Alle 10.15 l'esibizione dei piccoli fassonerisi A seguire la regata dei sfassonisi nelle due specialità Dalle 17 con l'evento Otto Cain Tour è prevista una visita alle bellezze e dai monumenti del paese con partenza dalla Basilica Romanica Alle 20.30 tutti a cena con i sapori della laguna e alle 22 lo spettacolo di musica etnica con Orlando Magia e il suo gruppo Un appendice della festa si avrà giovedì 3 agosto in Piazza Basilica a partire dalle 22 con lo spettacolo musicale dei tenores di Neoneli e il gruppo internazionale di flamenco con la ballerina andalusa Ana Gonzales Quest'anno torna anche la rassegna folcloristica Sonos e Cantos che per l'occasione prenderà il nome di Cantendi e Baddendi in Prazza Igresia Organizzata dall'Associazione Coro Polifonico di Santa Giusta vi prenderanno parte diversi gruppi folk Ieri a Oristano si sono svolte due importanti cerimonie nel corso delle quali il comune di Oristano ha onorato due cittadini illustri Alle ore 10 il sindaco Luzzo insieme ai familiari dell'illustre sportivo oristanese Leonardo Tatti scomparso nel 2001 e ai rappresentanti delle istituzioni sportive e delle istituzioni cittadine ha scoperto una targa ricordo all'ingresso del campo Tarros un luogo simbolo della città, particolarmente caro a Tatti che nel complesso sportivo ha trascorso tanti anni della sua vita e della sua esperienza di educatore e di istruttore sportivo Alle 11 si è tenuta la cerimonia nell'area verde a Tigua alla scuola primaria di Via Bellini che è stata intitolata all'illustre pittore e ceramista Arrigo Visani un vero artista che negli anni trascorsi a Oristano alla guida della sezione ceramica dell'Istituto d'Arte si distinse nella promozione e valorizzazione dell'antica tradizione figulina arborense la targa artistica realizzata dal professor Manis nell'imminenza del trentesimo anniversario della sua scomparsa ben sintetizza la gratitudine della città verso l'autorevole figura grazie a tutti